La SPD ha detto sì ad Angela Merkel. Il congresso straordinario del partito ha dato il via libera all'inizio dei negoziati con la cancelliera. Speriamo di arrivare alla formazione dell'esecutivo entronatale, ha affermato il presidente della SPD, Sigmar Gabriel. Ora spetterà la dirigenza socialdemocratica trovare un accordo soddisfacente, in grado di convincere gli oltre 472.000 iscritti al partito, cui spetterà l'ultima parola sul via libera definitivo al governo. Ieri, nel parlamentino della Willy Brandt House di Berlino, si è consumato un vero e proprio dramma politico. Da una parte la necessità di dare alla Germania e all'Europa un governo in tempi ragionevolmente brevi, dall'altra la consapevolezza che la SPD rischia di pagare un prezzo enorme in termini di consenso. Sarà una trattativa dura, afferma la dirigenza in una nota, e alla fine emergerà un governo che sarà comunque frutto di un compromesso. In ogni caso, il partito considera alcuni punti non negoziabili. Tra questi spiccano l'introduzione di un salario minimo garantito pari a 8,5 euro all'ora, paga uguale per uomini e donne, stessa pensione per i cittadini di est e ovest, maggiori investimenti in infrastrutture ed educazione, una strategia comune per incrementare la crescita nell'eurozona. Altro tema sarà la formazione della squadra di governo. Secondo i media tedeschi, i socialdemocratici chiederanno sei ministri con portafoglio nel Consiglio dei Ministri composto da 15 membri in totale. Alcuni nomi cominciano a trapelare, tra questi quello di Anne-Lore Kraft, popolarissima governatrice del Land del Nordreno-Vestfalia, riformista, all'inizio molto critica nei confronti della grosse coalizione, ora indicata da molti come possibile vice di Angela Merkel. Sigmar Gabriel, già ministro dell'Ambiente, entrerà in ogni caso a far parte della compagine di governo. Un ruolo chiave che la SPD tenterà di accaparrarsi sarà quello del ministro delle Finanze. Su questo, però, è arrivato il primo no dal presidente dei deputati della CDU, Volker Cowder. In questo momento di difficoltà per l'Europa abbiamo bisogno della persona migliore. Wolfgang Schäuble è sicuramente il miglior ministro delle Finanze che vedo in giro.